La squadra mobile della questura di Trapani e i carabinieri della compagnia di Marsala, unitamente agli agenti del locale commissariato e ai militari dell'arma della stazione di Favignana, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Marsala nei confronti di una trentenne marsalese ritenuta responsabile di omicidio e rapina ai danni di Antonino Titone, reati commessi a Marsala il 26 settembre 2022 in concorso con un altro soggetto già tratto in arresto lo stesso giorno del fatto e attualmente detenuto. Nella circostanza, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo nel corso di una rapina scaturita da questioni legate allo spaccio di stupefacenti avrebbe ucciso la vittima colpendola ripetutamente alla testa utilizzando un oggetto contundente opportunamente modificato per l'offesa e si sarebbe poi allontanato unitamente alla donna che, secondo le dichiarazioni rese da lei e dal co-indagato, sarebbe rimasta fuori dall'abitazione durante le fasi culminanti dell'omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala ed eseguite congiuntamente da tre uffici investigativi con il supporto dei gabinetti provinciale e regionale della Polizia Scientifica per la Sicilia Occidentale nonché del servizio Polizia Scientifica, hanno consentito di raccogliere rilevanti elementi probatori in ordine alla responsabilità della donna che, secondo gli accertamenti degli investigatori, sarebbe entrata nell'abitazione rivestendo un ruolo attivo nella vicenda omicidiaria. L'indagata, localizzata e rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri sull'isola di Favignana, dove si trovava per ragioni lavorative, è stata ristretta presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo a disposizione dell'autorità giudiziaria.